Nei giorni di Artissima tutta la città di Torino vive un fermento contemporaneo che è probabilmente il miglior esito della fiera ospitata all'Oval del Lingotto. Istituzioni come la Fondazione San Dretto Rere Baudengo o le Officine Grandi Riparazioni, musei come la GAM e il Castello di Rivoli, tutti presentano mostri importanti, ma il clima è reso frizzante anche da altri progetti che fanno sì che la presenza dell'arte in città sia capillare e multiforme. Tra le cose che abbiamo visto girando per le vie del capoluogo Sabaudo nel weekend di inizio novembre, nel Duomo dell'OGR spicca la mostra Artissima Telephone curata da Vittoria Martini, una ricognizione tra il vintage e l'iperattualità dell'oggetto telefono per come l'hanno utilizzato gli artisti, da Pistoletto alla Maiolino, da Cesare Vielle a Camillo B. Ce ne ha parlato anche la direttrice di Artissima Ilaria Bonacossa. Opere pensate, fatte per essere fruita al telefono, che è anche una riflessione su questa rivoluzione sociale dell'uso del telefonino che ha trasformato le abitudini di tutti e che ci ha reso tutti in qualche modo promotori di noi stessi e collegati sempre con il mondo, ma in qualche modo anche sempre controllati. Dal suono del telefono a quello delle parole, nei magnifici locali della libreria La Bussola, si è tenuto il Faustfest, una serie di conversazioni sul contemporaneo e alla sua filosofia, ideate dallo scrittore Gianluigi Recuperati, che ha portato l'attenzione sul pensiero e sulle azioni che muovono la cultura oggi e anche su quelli che, molto probabilmente, la muoveranno anche domani. Io credo che arte e attivismo non siano due cose diverse, sono parti della stessa cosa, perché l'arte non è un sistema separato e isolato nella società, ma ne è una parte. A parlare è l'artista indiana Navjot Altaf, che al PAV, Parco Arte Vivente, presenta la propria mostra Samakalik, Democrazia della Terra e Femminismo, un'interessante indagine tra le pratiche artistiche e il pensiero ecologista in Asia, con particolare attenzione all'emergenza di un ecofemminismo che potrebbe rappresentare un forte elemento di discontinuità in tutta l'area. E poi, ovviamente, ci sono state le notti di Torino, con i progetti sonori che trovano a casa ancora all'OGR, nello scenario musicale di Club to Club, altro momento topico di queste lunghe giornate all'ombra della mole.